Oltre 40 milioni di euro erogati, 900 progetti deliberati, 31 bandi pubblicati, 1.400 partenariati. Sono solo alcuni dei numeri messi a bilancio dei quattro anni di mandato di Cristina Colaiacovo alla guida della Fondazione Perugia. Un percorso iniziato in salita nel 2020 in pieno regime covid ma che partendo dal rebrandering con il nuovo logo e la nuova edizione di Fondazione Perugia ha voluto dare un marchio distintivo al suo operato, quello dell'apertura al territorio. Secondo noi in questo periodo oltre al cambio del nome che ci ha aiutati abbiamo fatto questo percorso di avvicinamento alle singole persone attraverso un percorso che ha visto la Fondazione da ente che era mero erogatore di risorse anche ad un ente catalizzatore di energie capace di creare partenariati, di costruire anche reti e soprattutto di non più solo erogare appunto il contributo ma di accompagnare attraverso una formazione e questo ci ha permesso di aumentare gli enti di riferimento sono passati diventati 1.400 circa gli enti che fanno riferimento alla nostra fondazione e in questi quattro anni abbiamo un bilancio di circa 40 milioni erogati quindi 10 milioni all'anno che penso sia una cifra importante calcolato che poi noi copriamo un territorio che non è tutta la regione dell'Umbria ma è solo una porzione la provincia principalmente di Perugia. Il primo la presidenza con la Iacovo ha sicuramente rafforzato il patrimonio della fondazione in un'ottica di diversificazione e quindi riducendo il rischio finanziario dei nostri investimenti questo garantirà nel tempo una maggiore stabilità delle erogazioni ma anche una crescita della fondazione. Il secondo punto è quello di avere ampliato lo sguardo oltre i nostri tradizionali interlocutori ovvero dialogando anche con il mondo profit e con le imprese verso le quali non possiamo dare contributi ma verso le quali abbiamo condiviso e condivideremo alcuni obiettivi comuni quali la sostenibilità, lo sviluppo sociale, economico e culturale del territorio. La presidente con la Iacovo in questi anni ha puntato molto al rafforzamento delle competenze interne oltre anche del territorio chiaramente ma anche interne in termini diciamo di maggiore specializzazione di maggiore professionalità della struttura e quindi questo a mio avviso è molto importante perché anche questo contribuisce a rafforzare la fondazione nel corso del tempo. Nell'occasione della conferenza di bilancio di fine mandato presso Palazzo Graziani con accanto il segretario della fondazione Fabrizio Stazzi con la Iacovo ha ricordato alcune tappe distintive di questi quattro anni crescente investimento nella formazione con oltre 120 seminari organizzati nel quadriennio rafforzata sinergia con la consulta delle fondazioni Umbre con progetti contro l'usura e la dispersione scolastica la valorizzazione del patrimonio storico e culturale con oltre 80.000 visitatori nei musei della fondazione e con successi come la mostra Nero Perugino Burri. In occasione del bilancio di fine mandato è stato reso noto anche il nuovo comitato di indirizzo con dieci componenti scelti da enti e ordini professionali sono Francesco Asdrubali, Maria Giovanna Belardinelli, Maria Pia Benedetti, Andrea Capaccioni, Simonetta Cesarini, Chiara Ferretti, Daniele Moretti, Roberto Moretti, Massimo Panfili, Elena Santicchi e dieci scelti dai soci dell'assemblea Giuseppe Abriti, Alessandro Baglioni, Niccolò Bertotto, Alcide Casini, Ernesto Cesaretti, Roberta Datteri, Angelo De Poi, Biagino Dell'Olmo, Lucio Lupini, Giorgio Moretti. Nel mese di maggio il comitato di indirizzo nominerà il nuovo presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti della fondazione.